Dal 25 al 27 ottobre l'Arcidiocesi di Catania ha ospitato il 35esimo convegno regionale del dialogo dei seminari in Sicilia. In occasione di questo triduo i seminaristi siciliani sabato mattina hanno fatto tappa a Biancavilla in pellegrinaggio nella Basilica di Maria Santissima dell'Elemosina. Mattinata piena di impegni, quella di sabato, i seminaristi si sono recati prima a Villa delle Favare per assistere alla conferenza spirituale sul tema Vivere la Fede, tenuta dal professor Francesco Ventorino, docente di ontologia etica presso lo studio teologico San Paolo a Catania. È un incontro fra i seminaristi della Sicilia che innanzitutto penso che sia un grande momento di amicizia, per rinnovare l'amicizia fra di loro che poi sarà il fondamento di una corresponsabilità nel ministero sacerdotale che avranno quando saranno preti in tutta la nostra regione. Innanzitutto questo. In secondo luogo è un paragone su alcuni temi fondamentali della fede, soprattutto della fede nel mondo contemporaneo. Successivamente gli aspiranti sacerdoti si sono recati nella Basilica di Maria Santissima dell'Elemosina. I seminaristi hanno visitato la Basilica Biancavillese, poi Monsignor Salvatore di Cristina, arcivescovo emerito di Monreale, delegato cesi per il dialogo dei seminari in Sicilia, preseduto la celebrazione eucaristica, sottolineando nella sua omelia come colui che si dà a Dio per il servizio del regno e sembra obbediente ai disegni del padre. La cosa importante di questa iniziativa di convegni è che sono i seminaristi stessi che organizzano tutto. Lo fanno nella massima libertà, nella massima autonomia. Naturalmente poi c'è un delegato, che nel caso particolare sono io, della conferenza episcopale, che assiste, ma semplicemente anche per incoraggiare e per approvare. In realtà sono cose fatte molto bene, ormai con una bella esperienza di tanti anni. È un grande dono che il Signore ci fa in questi giorni di grazia, perché appunto sperimentiamo giorni di confronto, di scambio reciproco, ma anche di formazione e anche di fraternità. Così appunto è nato il dialogo e spero che queste chiavi di lettura continuino a caratterizzare sempre le attività del dialogo. A fine celebrazione i seminaristi, l'arcivescovo e i vari rappresentanti hanno ricevuto in dono una riproduzione dell'icona di Maria Santissima dell'Elemosina.